Aspetta, ecco, ecco Dero, minchia stai facendo schifo finora, si è partito, non tenevi accorto, minchia, e taglia poi, non posso tagliare taglio, minchia di testa! Tensione di Lorenzi, stiano la mette, ma tira anche un po' a me, cioè, dentro, cazzo papà! Tensione di Lorenzi, stiano la mette, ma tira anche un po' a me, ma perché? Bello questo, ma dai! Guardate il signor Bertatello Alessandro, è l'ombra a me! Eccolo, guardate i suoi piedi, tiro e canello, metterà un uomo! Adesso è il cambio, parte di Lorenzi! Guarda che passaggio, niente! De Lorenzi, metti una tripla! Cazzo, povero uccello! Cazzo, povero uccello, come l'ho trattato oggi! Hai visto questo uccello? Eh no, stavo pulendo! Ahhhh! Lo stavo pulendo! Dammi qua, le faccio una tripla! dai! Cos'era sta merda qui? Cos'era sta merda qui? Ecco Lorenzo, che prima si è spacerato contro la porta! Sfiguzzo! Io mi sto un po' grattando i coglioni! TEMPO! Maria! Madre di Dio prega per noi peccatori! Uuuuh! Ah ah cazzo! Ah un campo! Che mare! Che mare! Che mare! Che morto! Un'interferenza! Puttana che due ore! Oh non filmare!